La direzione KR si trova di fronte a un'importante fase di cambiamento e a obiettivi particolarmente ambiziosi. Assumere un ruolo più strategico per favorire il raggiungimento degli obiettivi di business. Promuovere l'efficienza dei processi di amministrazione del personale. Tagliare i costi di gestione. Rivedere i modelli organizzativi per rispondere alle nuove esigenze. Lavoro remoto, mobilità sul territorio, strumenti mobile. La direzione HR deve quindi evolversi e liberarsi di tutte le attività operative e ripetitive di amministrazione del personale che precludono quelle più strategiche e innovative di business intelligence. HR Portal Zucchetti è il portale delle risorse umane che risolve tutti i tuoi problemi attraverso un unico punto di accesso via web, tu elimini le attività ripetitive a basso valore aggiunto, snellisci le attività dell'ufficio del personale e ne migliori l'efficienza. I tuoi dipendenti e collaboratori dispongono online di tutti i servizi, delle informazioni e degli employees e il service per avanzare richieste, chiedere autorizzazioni, gestire i propri dati e consultare i propri documenti. I manager hanno una visione globale e complessa del team di lavoro per prendere le migliori decisioni nel minor tempo possibile. Con HR Portal Poi pubblicare le comunicazioni aziendali e i documenti di interesse dei dipendenti, cedolini, fogli presenza, cui organizzare i servizi del personale per permettere ai dipendenti di verificare le proprie timbrature, inserire i giustificativi di assenza, le ferie delle note spese, aggiornare i propri dati anagrafici in completa autonomia, raggiungere tutta la popolazione aziendale attraverso uno strumento disponibile su PC, smartphone, tablet o per coloro che non ne dispongono attraverso appositi totem touch screen, targetizzare le profilazioni d'accesso in base al ruolo ricoperto in azienda e di conseguenza differenziare le viste, le informazioni, i servizi e gli applicativi per dipendenti, manager, responsabili, management. Analizzare fenomeni aziendali attraverso innovativi strumenti di HR Analytics, che dicono con estrema semplicità e di immediatezza se le politiche che hai intrapreso stanno producendo gli obiettivi desiderati. Lavorare comodamente, perché da un unico punto accedi a tutta la suite HR Zucchetti e quindi a tutti gli applicativi e funzionalità che ti servono per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione del tuo personale. Scegli anche tu HR Portal Zucchetti per ridurre di oltre il 50% i costi dei processi di comunicazione, per eliminare le attività manuali e a basso valore aggiunto dell'ufficio del personale, per conferire ai responsabili maggiore autonomia nella gestione dei collaboratori, per migliorare le relazioni con i collaboratori, rispondere alle esigenze del personale che sempre più spesso lavora fuori dai locali aziendali, in più sedi o filiali. Vuoi rimanere ancora fedele ai vecchi sistemi di gestione? Scegli HR Portal, il nuovo modo di lavorare della direzione del personale. Grazie a tutti.